La prima di preparazione per il Calcio 5 Soverato, Mr. Filippo Romano, le prime impressioni di questi 30 giorni più o meno che sono potete trascorsi? Ottimo gruppo di lavoro, dedizione massima, disponibilità massima da parte dei ragazzi, non che non me l'aspettassi, però è sempre un piacere vedere dei ragazzi che lavorano in serenità, è stata una bella esperienza. Quest'anno sarà un'avventura importante sia per il nuovo mister sia per la società, già la prima uscita è andata molto bene, un 11-3 è abbastanza rotondo. Un ottimo test contro una squadra di categoria inferiore, qui mancavano alcuni elementi, però queste sono le partite trappola e invece i ragazzi l'hanno interpretata bene, è andata bene. Prima di parlare del prossimo impegno, cioè quello di domani, di sabato, nell'ambito del campionato invece, quali saranno le squadre di Atamerica? Più o meno tu conosci quasi tutti. Allora, il Belvedere sicuramente è in pole position, la Magic Games, che sono le stesse che erano all'ascorso nel nostro girone, e poi tanto tanto equilibrio, quindi sarà il campionato insidioso di per sé. Molti dicevano che tecnicamente era un campionato inferiore, ma penso proprio di no. Già addirittura in C1 si trovano ragazzi brasiliani che una volta erano le caratteristiche solo della Serie A, ma invece già in C1 troveremo squadre attrezzate. E sabato in Filadelfia? Sì, un'altra squadra di Filadelfia, è un test da non sottvalutare, loro nella seconda partita hanno pareggiato contro l'altro Filadelfia. Sicuramente è un match da non prendere sotto camma, anche perché è il campionato alle porte, quindi voglio delle risposte da parte dei ragazzi. Grazie. Grazie.